grave lutto nel mondo del cinema americano è morto infatti adam west vi ricordo che recitò nella famosa serie televisiva batman degli anni sessanta se ne è andata 88 anni di età era un attore americano malato purtroppo di leucemia il cancro che colpisce il sangue e l'ha fatto sapere proprio la famiglia che purtroppo si è spinto la per così dire presenza di west nel mondo del cinema e più precisamente nel mondo delle serie televisive di certo non può passare inosservata anche perché costui è riuscito nel corso degli anni a farsi notare nel ben impaginato mondo della televisione soprattutto del cinema americano io di questo personaggio sicuramente non ho visto molto perché non era ancora nato quando costui per l'appunto interpretava il ruolo di batman in questa serie televisiva però è possibile vedere qua su internet su youtube diversi diversi diciamo spezzoli diverse puntate di questa serie americana e appare proprio questo personaggio qui che dal mio punto di vista si è fatto venutare nella sua capacità di saper ben interpretare il famoso personaggio che possiamo considerarlo come un vero e proprio eroe mi ricordo che la serie apparteneva agli anni 60 circa e fu trasmessa per la precisione dal 66 al 68 quindi due anni di tempo ringrazio per l'ascolto il video termina qua adam west riposi in pace